Com'era la questione? Ieri, Juventini, quello di TikTok, avete pareggiato con i cagliari? Noi siamo una squadra di merda, siamo in alto mare, ma voi siete sprofondati nell'oceano, e in Polinapoli 1-0 ciarri, noi è tre anni che facevamo cagare, continuiamo a fare cagare, vabbè, guarda l'anno scorso avete vinto un campionato, ma che in conference league è andato, avete rendito conto? E non ce l'ho con tutti i napoletani, ce l'ho con quello lì, non so come si chiama, baciami il cazzo, mi devi baciare il coglione destro, la puntina, proprio quel coglione lì, mi devi baciare, vedete, io posso capire che mi percula un interista, un milanista anche se fuori da tutto, però sono sopra, ma il Napoli che mi percula, ma mi viene da ridere, il napoletano che mi percula, ma mi viene da ridere, noi facciamo cagare, ma siamo terzi, per adesso, ma siamo terzi, voi fra un po' finite nella parte destra della classifica, e quell'altro Mirko e Fusegamer, dove so, Simmiglio Ford, una volta mi scrivete, va va, Simmiglio Ford, ma per favore!